Meghan Markle sta tornando alla ribalta mentre i Sussex lanciano nuove iniziative nel campo dei media e un esperto reale, avvertito che il principe Ferri è ora un ripensamento. Meghan Markle, ha preso le redini della prossima mossa mediatica della coppia, con il principe Ferri, che diventerà un ripensamento, come è stato affermato. L'esperto reale e del mondo dello spettacolo Kinsey-Shawfield ha valutato i tempi dell'annuncio di Meghan Markle e Ferri delle due nuove serie Netflix della coppia. Ha detto, ho pensato che fosse un tempismo interessante il modo in cui abbiamo sentito parlare dei nuovi programmi Netflix. Come se una volta il principe William avesse rotto il silenzio sui social media, e una volta avessimo visto il principe George e il principe William in giro con l'aria di buon umore. Poi l'assalto del PR del Sussex, arriva sulla nostra strada con l'articolo di Deadline. Intervenendo su Talk TV, ha aggiunto, voglio anche menzionare, se avete provato a condividere l'articolo di Deadline tramite il loro sito web, non c'era scritto nulla sul principe Ferri nel titolo, diceva Meghan Markle, Meghan, duchessa di Sussex, a lanciare due nuovi spettacoli. Se guardi il loro post su Facebook quando l'articolo è stato originariamente pubblicato, dice che Meghan Markle, duchessa di Sussex, pubblicherà due nuovi spettacoli. Ferri è un ripensamento. Grazie a tutti i nostri spettacoli. Grazie a tutti i nostri spettacoli. Grazie a tutti i nostri spettacoli.